I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno scoperto una rilevante evasione fiscale stimata in oltre un milione di euro perpetrata dai proprietari di numerose strutture ricettive extraalberghiere nella costiera cilentana. L'operazione, denominata Bed & Black, ha permesso di accertare che i proprietari di ben 65 appartamenti e 3 Bed & Breakfast non erano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa. Nel mirino 29 mini appartamenti in località Licinella di Capaccio Pestum, attraverso i quali i proprietari avrebbero sottratto all'erario circa 270 mila euro, e 22 appartamenti situati a Santa Maria di Castellabate, che avrebbero prodotto un'evasione pari a 600 mila euro. Altri due gestori di Bed & Breakfast situati ad Agropoli hanno affittato completamente in nero le camere delle proprie strutture, servendosi anche dei servizi e della pubblicità sul web.